La definizione di Aristotele, forse, che in teoria non conosce la forma Stato perché vive in un tempo in cui vi è la polis, che non è uno Stato, viene da una volta tradotta come città Stato, non è una cosa. Aristotele dice testualmente, il fatto che ci sia una popolazione di individui che scambiano e che quindi coesistono nello stesso spazio materiale è una condizione perché ci sia la polis, ma non esaurisce il concetto di polis. Oltre a questo bisogna avere coscienza di essere parte della polis e quindi membri di una comunità di insieme. Questa è la differenza. Lo Stato non è una fredda macchina fatta da norme e da geli di regolamenti da rispettare. Certamente ci sono anche le norme e le regole da rispettare, anzi lo Stato è quell'organismo che ha il monopolio della violenza, dice il sociologo Monspechner, cioè l'organismo che può utilizzare la violenza per far sì che le leggi diventino coattive siano rispettate appena rincorrere nella sanzione. Ma uno Stato in cui semplicemente si rispetta le leggi perché si teme la sanzione non è uno Stato, è una dittatura potenziale o una forma puramente democratica e tecnica. Lo Stato prevede anche una sorta di, direbbe Hegel, di riconoscimento dell'individuo, di appartenenza a questa comunità politica. Lo Stato è, infatti Hegel, scusate se insisto molto, ma è l'autore dirimente per capire anche questo, la giudizia, nei suoi lineamenti di filosofia del diritto, parte dal diritto a strano. Le regole che valgono semplicemente perché sono cogetti. Tu puoi anche in cuor tuo disapprovarle ma devi rispettarle, diritto a strano. Poi si passa alla fase della moralità, che è la legge interna, l'imperativo categorico, io nella mia coscienza sento che è giusto fare questo. Ed è il momento della pura interiorità. L'eticità, dove sta lo Stato, è la sintesi e il superamento dei due momenti precedenti. È in qualche modo valido e universale, quindi esteriormente, ma è al tempo stesso sentito interiormente dall'individuo. Questo è il punto, è la sintesi tra i due momenti precedenti. Ecco, per questo... Mi sembra che abbia risposto abbastanza alla domanda, sufficientemente. Qualche altra domanda da Punti?